un cordiale saluto dalla redazione di florence multimedia in studio marco gargini iniziamo dalla 11 dove adesso ci sono tre chilometri di coda per un incidente tra firenze ovest e prato est in direzione pisa in a1 stanotte in orario 22 6 chiuso per lavori nella galleria poggio civitella il tratto tra il bivio con la variante di valico la quercia e firenzuola in direzione firenze chiusi anche lo svincolo di badia in direzione firenze e l'uscita di firenzuola provenendo da bologna in fipili si segnalano lavori tra livorno porto e darsena toscana est in direzione livorno sulla statale 1 aurelia scambio di carreggiata per lavori nel tratto compreso tra fonte blanda e montiano in direzione grosseto muoversi in toscana info è un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comune di firenze buon viaggio a